Numeri interessantissimi nella diciottesima giornata del campionato in Lega Pro. Si registrano delle prime volte eclatanti. Il Crotone non riesce contro la Gelbison a far rispettare la legge dell'uscida. Fino alla sfida contro i Cilentani, la squadra di Mr. Lerda era uscita sempre vittoriosa dallo stadio amico. Ed invece Chiricò ha dovuto salvare i Pitagorici dalla sconfitta contro i Campani. Resta comunque l'imbattibilità interna per la seconda forza del torneo. Il Potenza si conferma sempre più Mr. X, anche se contro il Giuliano Di Lello di Napoli c'è da leccarsi le ferite per la rete subita al minuto 97 da Gladstone. La squadra di Raffaele con il punto strappato contro i Tigrotti al Viviani e al pareggio numero 12. La squadra del momento è sicuramente il picerno di Mr. Longo. I Lucani meglio dei cugini potentini, striscia risultati utili consecutivi importanti per il Rosso Blu che nelle ultime sette giornate hanno strappato la bellezza di 17 punti e la zona playoff. L'unico blitz di giornata è stato messo a segno dagli abruzzesi del Pescara. La vittoria del Veneziani di Monopoli dei Delfini di Colombo, grande ex del match, è stata l'unica vittoria in trasferta.